E si è conclusa la diciannovesima edizione di un corso di formazione organizzato dalla Confartigianato sede di Pesaro in contemporanea con la sede di Ancona dedicato alle imprese. Il tema l'intelligenza artificiale e tutta la sua applicazione dal punto di vista lavorativo. Sicuramente la scuola per imprenditori, arrivata come già detto alla diciannovesima edizione, è il percorso formativo più interessante e più centrato per gli attuali imprenditori e i futuri imprenditori presenti sul nostro territorio. E nell'arco degli anni, di questi diciannove anni, si è sviluppata con diverse tematiche, una su tutte il credito, piuttosto che l'area lavoro, piuttosto che il fare impresa consapevole e sostenibile, perché comunque diciannove anni iniziano ad essere veramente un record. Tutto questo grazie alla partnership con l'Università Politecnica delle Marche, quindi con il Dipartimento di Management tramite il magnifico rettore Gianluca Gregori e ovviamente il supporto della Camera di Commercio delle Marche. E i vostri associati hanno delle imprese molto eterogenee, quindi come è possibile che ognuno possa trovare la propria applicazione migliore? E' uno degli argomenti, una delle tematiche per il quale è stato scelto di affrontare un tema così importante come l'intelligenza artificiale, è stata proprio questa, cioè mettere a disposizione delle nostre imprese, dei nostri artigiani presenti sul territorio, tutti quegli strumenti utili e atti a utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale e quindi poterla utilizzare e non averne o non subirne il percorso di crescita di quello che ormai sta prendendo luogo sul nostro territorio. Attraverso il quale alcuni imprenditori hanno già capito il valore assoluto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale calato sulla propria impresa. Quindi feedback assolutamente positivi, stasera ci sono stati la consegna degli attestati e tutti hanno ringraziato perché comunque un corso di selezione sviluppato su tre mesi, completamente gratuito, in cui viene rilasciato un attestato, non è tutti i giorni che si può affrontare e conoscere.